Allora cari amici, siamo qui, è finita una fantastica serata alla Pascia qui a Colonia e devo dire veramente che abbiamo visto dei match incredibili ma li potrete seguire poi nella nostra pagina Facebook ci saranno tutte le informazioni e tutti i dati e i video della serata volevo intanto ringraziare visto che con me ho un grandissimo personaggio importantissimo che è Herman Pascia che è l'autentico boss di questo grande, grandissimo e fantastico locale che poi hanno organizzato questa bellissima serata e io volevo innanzitutto complimentarmi per i 20 anni del Pascia di questo stupendo locale e ovviamente chiedagli anche quelle che sono state poi le emozioni che ha vissuto e ringraziandolo ovviamente per averci dato la possibilità di essere qui questa sera questo è stato molto lungo, è stato un grande evento di oggi e volevo ringraziare a Pascia per la super organizzazione e gratulare per il 20 anni del jubileo e ha detto che i campi erano incredibili, il giorno è stato fantastico, il giorno è stato fantastico e volevo ringraziare a qualsiasi volevo ringraziare a Pascia per i campi, per la combat league e per i ragazzi che abbiamo conceduto? che ci sono davvero 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 sensazione ma è che io non posso in un'alto in un'alto perché non è mai 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 in un'alto ma è stata una felicità il 20-jährigio è un'highlight ogni giorno un'altro l'oktoberfest, ladies night, carnavalsnacht, herrensitzung, damensitzung è un'highlight, l'altro Il 9. e il 9. è stato un'esplice, è un'esplice sensazione. Sempre sono stati in un'esplice, sempre sono stati in un'esplice, anche anche stati in un'esplice, per cui è sempre un'esplice spazio, fino al fine, se potrebbe. È una grande grande spazio che il Holger è fatto, e ci siamo a lui per avermi dimenticato, i suoi contatti che ha in Europa, che sono stati in un'esplice. È molto bello! Volevo chiedere anche adesso una precisazione perché il Pascia non è solo degli eventi che si svolgono qui ma è andato ben oltre, ha un team di atleti professionisti di grandissimo livello che tra l'altro adesso stanno cominciando a vincere in molti eventi in Europa e questa credo sia veramente una grande soddisfazione per questo progetto, questo meraviglioso progetto che è nato qui e volevo chiedere quelle che sono le emozioni che si vivono poi ad avere un team di atleti di così grande livello che portano alto il nome della Pascia in tutta Europa e che tra l'altro ottengono delle grandissime soddisfazioni Un'altra cosa è un'altra cosa che vorrei per me è un'ottima sentimento che i ragazzi sono così sposti e che i ragazzi possono essere in un'ottima e che i ragazzi possono essere in un'ottima livello e che per me è molto emozionale per vedere cosa i ragazzi di riconoscire e che i ragazzi di organizzazioni come Holgi e Pasha in Pasha? Non, è davvero un malo, perché ho anche sempre in molti boxe, ma come funziona per noi, come funziona quasi minutengleiche, non ho mai avuto. Un Zirkus e un Teare, fino a chi viene. Per noi è davvero davvero molto bene. Ci sono anche davvero ausgewogenee per i campi. Molte volte, vedete, che non c'è una possibilità per i campi. Ci sono 30 secondi per il campo. E qui, per noi, è davvero un'altra distanza ed è davvero ausgewogenee, davvero ausgewogenee. Molto. Bene, beh, io voglio ancora ringraziare ovviamente per aver avuto questa grande opportunità di essere qui questa sera, per aver visto degli atleti veramente di altissimo livello, fare dei match spettacolari e soprattutto volevo ringraziare per questi vent'anni del Pascia che sono sicuramente un grandissimo evento e soprattutto anche ricordiamo che sono vent'anni che vengono celebrati con una serie di eventi internazionali che giornalmente, qui all'interno del locale di questa meravigliosa struttura, importano tutta una serie di eventi di varie tipologie. Ringrazio ancora ovviamente Herman Pascia per averci ospitato, per averci dato questa grande opportunità e vi do appuntamento al prossimo evento che è Bloody Sunday che sicuramente a breve potremo dare delle nuove news e ovviamente dare una data. Grazie ancora a tutti per questa meravigliosa serata Grazie per questa opportunità Grazie